assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh pace e benedizione a tutti voi vi auguro a tutti un ramadan karim e spero che sia per noi un'occasione per un arricchimento spirituale morale e sanitario all'occasione di questo mese di ramadan ho pensato di scambiare con voi la discussione di certi temi che hanno rappresentato da sempre dei motivi di divisione della nostra umma ma soprattutto sono stati dei mezzi che hanno corrotto dall'interno la dottrina islamica siamo nel terzo millennio il millennio dell'intelletto e della comunicazione via internet che ha facilitato a tutti noi l'ingresso alla conoscenza con un clic riusciamo ad avere una bibliografia cospicua su ogni tema che vogliamo affrontare e in tutte le lingue beato quindi colui che ha maestra più lingua nessuno di noi può giustificarsi oggi di non essere in grado di arricchire la sua conoscenza l'ultimo della umma possiede oggi un telefonino e può connettersi anche gratuitamente da certi ambienti da certi ambienti e fare le sue ricerche per rispondere alle domande che il suo intelletto li pone detto questo oggi ho scelto per voi un tema che ha fatto colare mari di inchiostro e tonnellate di carta si tratta del tema sull'abrogante e l'abrogato al nasih wal mensuh nel corano troviamo un versetto la cui interpretazione è stata un disastro nei secoli grazie a questo versetto i shuyuk della nostra umma sono riusciti a mettere la sunna al primo posto della sharia e quindi reso la fonte principale della nostra fede a scapito del nobile corano in effetti sheikh al azhar aveva dichiarato quest'anno che la sunna rappresenta i tre quarti del nostro din e il corano rappresenta solo il rimanente quarto ecco perché nel di del giudizio il nostro nobile profeta ci dirà corano 25 versetto 30 e il messaggero dirà signore il mio popolo ha lasciato in abbandono questo corano lo calo al rasul i arabi inna comi tachadu ha dal corana maggiore eccoci ora di fronte al versetto in questione che vi leggo prima in italiano poi in arabo ma lo leggo in italiano nella versione sbagliata che esiste oggi in tutte le in tutte le traduzioni anche italiane purtroppo il versetto lo troviamo nel capitolo del corano 2 versetto 106 e dice non abroghiamo un versetto né te lo facciamo dimenticare senza dartene uno migliore uguale non lo sai che alla e con il potente non lo sai che alla e onnipotente ma non si chi min aia cina o non si ha la cibi chaynin minhà o mitlaha alam ta'alam anna allah ala kulli shayin qadir disgraziatamente la maggioranza delle traduzioni sono sbagliate perché hanno tradotto la parola aia con la parola versetto allora che questa parola cioè la parola aia significa piuttosto un segno o un prodigio un miracolo d'accordo il corano è sempre usata in questo senso vi do un esempio corano capitolo 30 versetto 22 e fan parte dei suoi segni dei segni di alla la creazione dei cieli e della terra la varietà dei vostri idiomi e dei vostri colori in ciò vi sono segni in ciò nei versetti del corano vi sono segni per coloro che sanno quindi come vedete la parola aia in arabo è stata tradotta giustamente in segno e non in versetto ogni versetto nel corano è in effetti un aia ossia un segno il corano per intero quindi è un segno divino per noi dall'altra parte il verbo è stato tradotto con il verbo abrogare allorché il senso in lingua araba è copiare trascrivere e non significa affatto né abrogare né cancellare ma piuttosto mantenere copiare trascrivere tutti i versetti coranici confermano questo significato del verbo nasaka significa anche copiare riprodurre in copia ma non significa per niente abrogare o cancellare i traduttori non si sono resi conto che la loro traduzione è incoerente per non dire altro come può come 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 dio può dirci che non abroghiamo un versetto niente lo facciamo dimenticare senza dartene uno migliore uguale perché ci darebbe un uguale se ha deciso di cancellare quello che ci aveva già dato a cosa servirebbe questa sua decisione se il risultato è uguale cioè ce l'abbiamo ce lo manteniamo perché lo cancelli poi ci dai uno uguale non significa niente non serve a niente quindi c'è un dubbio nella traduzione giustamente nel versetto in surat el jatia la genuflizione ossia la surat 45 nel versetto 29 leggiamo in arabo ed eccovi la traduzione in italiano eccovi il nostro registro dei vostri fatti che rivela la verità su di voi cioè è una prova registro dei fatti che abbiamo fatto nella vita quando dio ce lo presenterà lì di del giudizio di fronte a noi ci vediamo noi stessi in atto in azione quindi non possiamo non credere perché è la verità completa sotto i nostri occhi quindi alla dice in questo versetto eccovi il nostro registro dei vostri fatti che rivela la verità su di voi sì abbiamo registrato tutto ciò che facevate e qui registrato e la traduzione del verbo nasaha che nel versetto dell'abrogante e l'abrogato è stato tradotto come cancella qui il contrario registra e copia e duplicare quello che 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 abbiamo fatto nella vita comunque questo versetto contiene il verbo nastanzi che nel versetto significa registrare tutto ciò che facevate come mai allora hanno tradotto lo stesso verbo in modo errato nell'altro versetto dove le hanno dato il senso di cancellare la risposta è semplice lo hanno fatto perché influenzati dalla tradizione e perciò di fronte a certe contraddizioni essi non usano l'intelletto ma dimostrano chiaramente che quest'ultimi sono ipnotizzati dalla tradizione e perciò ripetono da secoli senza rendersi conto degli errori enormi del passato mantenendo così la nostra fede prigioniera di ciò che ha detto ibn Taimiya il Bukhari o Muslim io credo piuttosto che questi errori di interpretazioni li hanno scritti scientemente i falsari e li hanno attribuiti ai shuyuk ai shuyuk tradizionali per renderli credibili e indiscutibili quale sarebbe allora la vera interpretazione del versetto sulla vera interpretazione del versetto sull'abrogante e l'abrogato religiamo allora in lingua araba poi diamogli la giusta traduzione come avevano chiesto dei segni i popoli di Mosè e di Gesù lo ha fatto anche il popolo di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inutile ricordarvi che il popolo ebraico aveva chiesto dei segni a Mosè che li ha portati a spaccare delle acque dal mare in due il bastone che diventa un serpente i nuovi flagelli eccetera eccetera così come Gesù gli hanno chiesto un segno e gli ha dato il segno di Giona cioè chi sarebbe rimasto per tre giorni e tre notti vivo sulla terra questo lo troviamo in Matteo 12 ma tutti chiedevano i fatti dei segni per credere al messaggio del profeta dell'ora e chiedevano dei segni come quelli dei profeti precedenti cioè dei segni sopranaturali e allora Allah ha fatto scendere nel suo corano questo versetto che dice nella sua vera tradizione italiana che vi do ora corano 2 versetto 106 non riproponiamo un segno cioè un miracolo cioè proporre una coppia uguale o un prodigio ad un prodigio del passato o lo facciamo dimenticare cioè abbiamo dimenticato lo spaccarsi del mare abbiamo dimenticato cioè non non è una cosa che ci prova oggi che Dio esiste questo era soltanto per i contemporanei come non è per oggi prova che la risurrezione dei morti è vero o non è vero perché nessuno lo può provare è scritto nella ci crede soltanto colui che è una fede convinta e perciò e perciò Allah subhanahu wa ta'ala non ci ripropone la stessa cosa ma ci propone qualcosa di simile la cosa ha un segno passato ci sono molti profeti che hanno fatto la stessa cosa per esempio la risurrezione dei morti che la maggioranza credono che sia sottato un'esclusiva di Gesù Cristo non è vero nel vecchio testamento ci sono molti che hanno risuscitato dei morti tra loro Eliseo eccetera inutile di riprendere questo punto quindi il versetto dice non riproponiamo un segno del passato o lo facciamo dimenticare vi portiamo meglio di esso o uguale non sai che Allah è onnipotente e qui era un versetto che voleva come si dice che voleva insistere sul fatto che Muhammad SAW non aveva bisogno di fare dei prodigi come hanno fatto i profeti prima di lui il suo grande prodigio è il Corano infatti ha detto meglio è il Corano che è un prodigio vivente è eterno non smetterà di stupire il mondo sino alla fine dei tempi come vedete il significato non ha nulla da che fare con ciò che ci hanno spacciato da quattordici secoli in effetti i danni che l'interpretazione sbagliata di questo versetto ha causato alla nostra Ummah e quindi alla nostra religione sono enormi e sono causa del nostro sottosviluppo culturale e cultuale per colpa di questa mala interpretazione premeditata del versetto in questione il grande sheikh del Hazar ha usato dire di fronte a tutto il mondo e a tutte le personalità politiche e culturali d'Egitto che il Corano rappresenta solo un quarto della nostra religione e che i tre quarti appartengono alla Sunna che si è costituita sulla base di molti falsi hadith che sono stati legittimati grazie alla falsa interpretazione del versetto sull'abrogato e l'abrogante che ha dichiarato in effetti molti versetti del Corano non più da prendere in considerazione perché proprio abrogati e questo quando il Corano ci dice senza ambiguità che 1. non esistono altri hadith al di fuori della parola di Allah così dice il Corano 45 versetto 6 eccovi ecco i versetti di Allah che noi ti recitiamo in tutta verità in quale hadith e in quale segno potranno credere oltre a quelli di Allah cioè non parla di versetti ma parla in quale segno cioè in quali prodigi oltre a quelli di Allah si credono quindi non si può credere in nessun altro hadith e in nessun altro discorso oltre a quello che c'è nel Corano 2. Allah ci ha garantito che tutto ciò che voleva dirci e comandarci è nel Corano Corano capitolo 6 versetto 38 non c'è essere che si muova sulla terra o uccello che voli con le sue ali che non appartenga ad una comunità come la vostra non abbiamo dimenticato nulla nel libro cioè nel Corano poi tutti saranno ricondotti verso il loro Signore il punto 3 ancora un altro versetto che ci dice che il Corano è una spiegazione su ogni cosa Corano capitolo 16 abbiamo fatto scendere su di te il libro che spiegasse ogni cosa guida e misericordia e lieta novella per i musulmani il capitolo 16 versetto 89 vi è un hadith su Aisha che alla domanda su come era il profeta secondo lei cioè gli hanno chiesto dei compagni su come era il profeta secondo lei come lo descriveva e la rispose era un Corano che camminava sui piedi sui suoi piedi quindi se il profeta era un Corano che camminava sui suoi piedi ciò significa che tutto ciò che vogliamo sapere sull'Islam è nel Corano non abbiamo nulla da aggiungerci perché allora avremmo avuto bisogno di hadith per leggiferare quando Allah ci ha detto che tutto è nel Corano l'esegesi del versetto qui discusso ha servito a coloro che volevano imporre leggi ai credenti leggi che servivano i loro desideri sanguinari e malvagi dicendo mezzogne sul libro di Allah l'esegesi del Corano non deve perciò soffermarsi a ciò che è stato detto nel passato da uomini come tutti noi oggi essi sbagliano e come si sbagliano dobbiamo avere il coraggio sulla base delle conoscenze attuali di rimettere in causa le esegesi che hanno dimostrato di essere eronee e rimetterle in causa dandogli il vero senso che Allah le ha dato in conclusione non esiste assolutamente in Islam l'abrogato e l'abrogante tutti i versetti ivi contenuti nel Corano sono ancora in vigore e lo saranno sinaldi del giudizio vi saluto e video appuntamento ad un altro tema in scha'Allah e vi saluto e vi saluto e vi saluto e vi saluto grazie 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 grazie